Domenica torna la fiera d'autunno all'Eden come tradizione, diciamo l'occasione per fare affari di qualità perché quello che si trova è sempre di qualità questa fiera. Sì, è un'occasione quest'anno in veste ritardata perché a causa del maltempo l'edizione prevista inizialmente ad ottobre era stata rinviata, è una manifestazione che giunge alla diciassettesima edizione, quindi il segnale che comunque i cittadini e i clienti apprezzano questa manifestazione, cosa vi possono trovare? Vi possono trovare tanti prodotti tipici del territorio di stagione, quindi per chi ama in questo periodo il vino novello, olio, tanti gusti, insomma i prodotti tipici del territorio sarà l'occasione per poterli acquistare sia per il pranzo della domenica oppure per la cena della serata, oppure anche semplicemente per consumarli sul posto e poi per chi vorrà l'occasione di avere un'ampia offerta all'insegna della qualità e della convenienza abbigliamento, calzature, pelletteria, tutto quello che può servire per il cambio di stagione.